Oggi pizzette! Come al solito scegliamo il lievito nell'acqua e lo aggiungiamo a filo alla farina in questo modo. Impasto lievitato adesso lo stendiamo come al solito piano di lavoro infarinato e gli diamo una lavorata veloce in modo che non si appiccini sul pianale. Poi con il mattarello lo dobbiamo stendere. Infariniamo bene anche il mattarello e stendiamo la nostra pasta così. Vediamo uno spessore non troppo fino perché poi le pizzette dovranno essere belle cicciose giusto? Adesso che l'abbiamo stesa con un coppapasta, un bicchiere, insomma quello vi parà a voi, diamo la forma alle nostre pizzette. Adesso sono pronte, le lasciamo riposare e poi le possiamo infornare. Inforniamo le pizzette! Adela come sono le pizze di zia? Buone, bellissime! Ed ecco le mie pizzette. Buone, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!